E' un mese più vecchio di Pelè, come ama scherzosamente dire lui. Ileno Mengarelli, classe 1940 di Vallefoglia, metra d'hotel in pensione e neolavoriato in filosofia alla veneranda età di 79 anni. Ha frequentato dal 2014 la facoltà dell'Università di Urbino, mischiato ai giovani studenti per i quali ha rappresentato un esempio di costanza e tenacia, saltando solo pochissime lezioni. Ileno è quello che gli americani definirebbero un completo self-made man. Lavora da quando ha 12 anni, con in tasca solo la quinta elementare. Figlio di contadini, ha girato mezza Europa negli alberghi più lussuosi di Londra e Hamburgo e dove ha iniziato la sua carriera di metri in Svizzera. E ha conosciuto personaggi dello star system internazionale, come Mick Jagger, il baronetto Paul McCartney o Rudolf Nureyev. Ha imparato, frequentando le scuole selari, tre lingue straniere e 20 parole di russo, tanto per sapersela cavare nelle cose esenziali, scalando tutti i gradi dell'istruzione fino alla laurea, con l'orgoglio delle sue due figlie e della moglie Gisella, che assieme al sindaco di Vallefoglia e da quello di Gradara, dove ora vive, hanno partecipato alla sua singolare festa di laurea. Come mai questa decisione di arrivare a questa fine percorsa? Ma ho sempre avuto la passione, da quando ho iniziato a leggere qualche testo di filosofia, di ampiare le mie conoscenze. Quando lavoravo, naturalmente, leggevo, ma non potevo frequentare università o altri istituti. Come sono andato in pensione alla giovane età di 72 anni, ho preso il diploma di media e superiore e poi mi sono iscritto all'università. Però io sono 40 anni o più che mi cimento come autodidatta in filosofia. Io sono andato avanti con le scuole serali, l'unica normale, fino alla quinta elementare, è la laurea. Diversamente le ho prese sempre con i corsi serali, le medie, i primi tre anni della giuneria e poi il diploma alla maturità, sempre con i corsi serali. Perché poi io lavoravo, quindi non mi potevo permettere di lasciare il lavoro e andare a scuola. Adesso cosa farai? Approfondirai la conoscenza o hai intenzione di andare avanti e prendertene un secondo titolo? Mi iscriverò alla magistrale. Vedo come sto, perché anche i miei compagni, e allora dopo la laurea si iscrive. Ragazzi, io sono 78 anni e non è che posso... Vedo, comunque mi iscrivo. Adesso a settembre, ottobre. E poi se sto bene proseguo e altrimenti farò il vecchietto. Grazie. Grazie.